Buongiorno a tutti e buon lunedì! Iniziamo questa settimana con un argomento favoloso. Oggi vi parlo di siero, siero viso. Innanzitutto non è un prodotto che è utilizzato da tantissimi, ma secondo me è proprio perché in molti non sanno ancora qual è il suo scopo. Oggi ve lo spiego e vedrete che più nessuno di voi riuscirà ad avere una routine completa viso, soprattutto anti-età, senza inserirci anche questo prodotto miracoloso. Perché dico miracoloso? Non è un aggettivo scelto a caso. Il siero va a potenziare l'efficacia del trattamento viso successivo. Quindi un siero giorno va a potenziare una crema giorno, il siero notte va a potenziare una crema da notte. Perché? Perché il siero è più liquido, quindi entra molto più in profondità nella nostra pelle e va quindi a massimizzare l'efficacia del trattamento andando a lavorare anche sulle cellule più sotto del nostro strato cutaneo. Ecco perché è una gestualità assolutamente da inserire nella nostra routine viso anti-età del mattino e della sera. Oggi nello specifico vi faccio un focus sui due sierinotte che abbiamo di Yves Rocher. Il primo di cui vi parlo oggi è il mio, Anti-Age Global, un siero bifasico rigenerante notturno. Questo lo posso aprire e ve lo faccio vedere perché appunto è il mio. Si tratta, come vedete, di un prodotto bifasico. Infatti vedete che è più scuro sopra e più chiaro sotto. Perché? Perché è composto da una parte acquosa e da una parte oleosa che prima dell'utilizzo devono essere miscelate tra loro. Vedete? Si forma un liquido più uniforme. Alla base c'è l'olio di jojoba rigenerante. L'estratto vegetale di questo prodotto è il nettare di gemma della pianta di Lillà. È un siero quindi trasversale innanzitutto, quindi può essere abbinato a qualsiasi altro trattamento viso notte, di qualsiasi altra linea viso anti-age. Va a lavorare sulle rughe, quindi è un potente anti-età e va a lavorare anche sulla luminosità della nostra pelle. Quindi un siero veramente favoloso per tutti coloro che hanno bisogno di nutrizione, ma anche di anti-rughe e anche di luminosità. È un siero direi assolutamente levigante. Io lo utilizzo perché va proprio a levigare i tratti e le rughette della nostra pelle. Ha un profumo eccezionale, nel senso che non è troppo forte, è proprio tenue e piacevole e la pelle risulta setosa e nutrita. L'altro siero notturno di cui vi parlo oggi è quello Elixia Botanic. Questo è un siero novità, un siero alla melatonina. Questo vi farà già capire che è il siero per eccellenza defaticante. Infatti la sua formula bifasica come quella precedente va miscelata affinché la composizione acquosa e quella oleosa si mescolano bene. Ha alla base il nasturzio di Bretagna e l'alga, che hanno proprio un potere di ossigenazione della pelle, come vi spiegavo in uno dei miei ultimi video in cui vi ho enumerato i sei vegetali emblematici del marchio Yves Rocher. E giorno dopo giorno la nostra pelle, quindi oltre a risultare molto più ossigenata, risulterà rinforzata e radiosa perché è proprio riposata grazie al componente di melatonina che c'è all'interno di questo siero. In effetti dopo un solo mese di utilizzo la nostra pelle è come se avesse recuperato 60 ore di sonno. Un prodotto eccellente. Vi faccio vedere proprio sull'immagine che vi unisco qui che si vede la particella più scura data dalla melatonina. Il siero ovviamente come per quello precedente va messo su viso e collo prima del trattamento da notte, lo lasciate penetrare e assorbirsi per qualche secondo e poi procedete con la vostra crema notte abituale, anche questo è trasversale, quindi con qualsiasi altra linea viso notte di Yves Rocher. Quindi andate subito a prenotare il vostro siero preferito perché in questo momento specifico sono entrambi scontati proprio per andare a chiudere, a completare la nostra routine notte. Sotto al video vi metto entrambi i link, quello del bifasico rigenerante da notte anti-age global con la sua crema notte e anche il siero alla melatonina e l'Ixia Botanic insieme alla sua crema da notte. Vi auguro una buonissima giornata!